All'è partita la finale delle Junior Femmine, 5.000 metri a punti, qua in forma per cambia. Nel momento in cui ci sarà il suono della campana, tutti i giri, dopo la campana, punti, punti, punti. Eccole al passaggio ai meno 24 con Castorina in testa. A meno 22 ci sarà il suono della campana e lì si aprirà la caccia dei punti che messi tutti in fila, uno dietro l'altro, andranno a stabilire chi è la campionessa italiana, ora l'atleta dei Diavoli Rossi, banchiato in testa. Ancora Sorzia Battiato a dettare il ritmo in testa al gruppo, un suono della campana con Battiato che lancia la volata per i punti. Quattrocento, trentadue, tre, quattro, tre. Quattrocento, trentadue, quattro, 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 trentadue, quattro Continua l'attreta dei piavoli rossi, Beton cerca di portarsi agli spalle intanto in testa al gruppo 4-5-8-42 ancora al passaggio, mentre 4-159 l'altra Castolina a coprire la fuga della gemella, passaggio punti, 458-42 ancora Castolina e Beton a prendersi i punti con Beton ora che si è portata in testa e siamo ai punti di meno 16, vediamo se dietro il gruppo non reagisce, 42-458 il gruppo ancora mezza pista di vantaggio quasi, ora decide di rompere gli intusi e fondi e di aumentare la natura in testa al gruppo siamo ai punti 458-42, 459 a Morita ed è ancora Beton e Castolina, Martina Castolina ai punti di meno 14, 42-458, si danno cambi regolari dopo il passaggio sul traguardo le due atlete ora Castolina, ora Castolina davanti a Beton, partita del Cardano che cerca di alzare un po' l'andatura del gruppo punti 458-42, si stanno spattendo i punti fin qui Castolina e Beton, Martina Castolina e Giulia Beton eccole ancora al passaggio di meno 12, 42-458 e qui il gruppo è ancora distante 4-2-4 a Morita ed è ancora Castolina, Giorgia a controllare il gruppo, Martina qua a sbattirsi i punti 458-42, stanno mettendo tanti punti nel loro tabellino 2-3-3 a Morita, 180 a Morita, siamo ai punti di meno 10, con Castolina 15 punti e Beton 13 al passaggio 2 punti per il 42 e un punto per il 458 e qua c'è un gran discutere in testa al gruppo mentre le due atlete di testa si ripresentano 458-42 e poi subito dopo i campi regolari, subito dopo il passaggio con Castolina 18 punti Beton 16, le altre staccatissime con due punti, due atlete, qua siamo al 42, 458 continuano a sbattirsi i punti, a un certo punto sono molto vicine, a un certo punto anche tra la coppia di testa qualcosa dovrà pur rompersi di questa alleanza che al momento ha permesso loro di mettere tanti punti ancora 2 per il 458, un punto per il 42 al passaggio successivo mentre ancora in testa al gruppo Castolina cerca di difendere la posizione con Folli dietro di lei e qua 42-458 e siamo arrivati ai meno 5 432, 432, a Morita andiamo alla testa con Martina Castolina ora al passaggio 458-42 ancora campi regolari sono ancora in accordo le due atlete quando transiteranno sul traguardo contagi a meno 4 con Beton o in testa 42 458 ora è una promossa e portata in testa al gruppo aumenta la natura dell'atleta dell'arte cercato insieme a lei ratti rilancia l'azione mentre la coppia di testa al passaggio a meno 3 con Castolina davanti a Beton 458 e 42 al momento Castolina 27 punti Beton 25 e ora 458 e 42 si rompe l'alleanza ed è Castolina che allunga ed è Martina Castolina che allunga Beton non ha avuto il cambio ritmo 458 42 320 la morita ed è Martina Castolina per la lunga conforme ora che va a spegnare per il secondo posto va intanto il titolo italiano è per Martina Castolina Castolina